Questo pomeriggio nell'ambito della consueto pomeriggio Casa Clima nel convegno con AES e anche con il nostro network Casa Clima Emilia Romagna. Abbiamo parlato non solo dell'ambito della riqualificazione energetica ma anche del riuso. In questo ambito ho presentato il Noitec Park che è stato un vecchio, un abbandonato sede della Montecatini per una produzione all'alluminio e ho fatto vedere come si può non solo riqualificare un edificio ma anche riutilizzare l'edificio da una parte industriale che adesso è un parco tecnologico e un parco di ricerca. Sicuramente nei prossimi anni non ci sarà solo un challenge della riqualificazione energetica per cui riqualificare energeticamente per avere dei obiettivi di risparmio energetico ma anche tutta la parte di riuso, di riutilizzo di edifici che non hanno solo un patrimonio architettonico ma anche un patrimonio energetico in quanto l'energia è grigia. Oggi per farsi solo un concetto spanometrico serve per costruire un metro quadro di edificio circa 1000 kWh al metro quadro di energia grigia solo per l'involucro termico. Per cui bisognerà spingere non solo sull'ambito della riqualificazione ma anche del riuso e questo pomeriggio si è visto anche un paio di esempi anche come nell'ambito tecnologico e economico questi challenge si possono anche risolvere in modo operativo non solo in ambito teorico.